Non so se ve lo ricordate, ma adesso vi andrò indietro nel tempo. Perché non vai dal medico? Ma che ci vado a fare? Non voglio mica smettere di bere e di fumare. In sottofondo, DJ Vortex con Incoming. Questa è la discoteca Energy Disco. Chi c'è, chi c'è? C'è il principe che si butta in mezzo a voi ragazzi. Ormai siete diventati grandi cenni, ma spero che vi ricorderete di questi momenti. E adesso passo passo vi farò vedere tutto quello che abbiamo fatto insieme con la nostra discoteca Energy Disco in Ciampino. Quando mi sono tagliato i capelli davanti a voi e quando ho fatto i vocalist con i migliori DJ e anche grandi vocalist che ci siamo venuti a trovare in quegli anni. Tra poco, piano piano, ve li rappresenterò uno ad uno. Quindi restate con me. Chi c'è, chi c'è? Lui, Andrea Fragasso, direttore artistico di Mondoradio Centro Italia. Grande Andrea. Sai che fine hai fatto? Boa, i soldi tuoi. E qui il principe Manuel quando trasmetteva a Mondoradio Centro Italia. Cristian Di Leo. Grandioso disc jockey. Adesso è diventato un famosissimo cantante e gira per l'Italia e non più. E lui, franchino, grandioso, grandioso. Sempre di più franchino dalla jazz imperiale. e musica! Vicky Leroy. Wow, 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 wow. Siamo sempre qua. Giochi di Conti, scusate, ogni tanto mi passa. Gigi D'Agostino con la mia amica Marzia e il principe Manuel sempre super toccatissimo. Sono talmente passati tanti anni che non mi ricordo più nessuno. Ma eccolo qua, Freddie Kay, Ziggy Giullare. E c'è anche lui, Undertour. Wow, che ricordi! E il mio grande mito. Lui, senza di lui, grandioso. Il DJ Vortex, senza di te, non sarei stato nessuno in discoteca, caro. Mario Più, direttamente dal Giais. Bella gente. Voilà! Ripartiamo? Eh sì, eh. Friki Leroy. Sempre in una discoteca fantastica. Grande, grande, Pagliarini. Grande, grande, Pagliarini. Boom! Ziggy Giullare. E ancora musica. E ancora spettacolo. Lei, Billy Moore, con Up and Down, ha fatto una clamorosa escalation di hit dance. Ti saluto, ora che ci guardi dal cielo. Grande, Billy. Matt! Grandissima serata al Mucca Assassina, dove sono stato ospite insieme a te. Ti ringrazio. Grazie, grande, grande, grande. E questo sono sempre io in discoteca, no? Sono in radio a fare lo speaker. Sto esaurito, non ci fate caso, ma è così. Billy Moore, Marvin e il Principe Emanuele, in versione Blondie. Voi siete tutti i miei, le piccole perle che ci hanno raggiunto nell'Energy Disco Grandiose Serate. Voglio ringraziare anche tutte le persone che non sono state nominate, DJ Slam, DJ Maxim, Max Leone e tanti, 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 tanti altri. Attrorum Attro� Attrolla